se siete d'accordo io farei il bis va bene però non tanto lungo il cuoco ha appena buttato la pasta il discorso è pronto e tra dieci minuti è pronta la pasta di che ne so? non lo so va bene allora un veloce bis ci sono dei foglietti in giro dei volantini sono un po' vecchi, c'è un errore vi invitiamo a trovare l'errore nel volantino però lo potete usare per i nostri recapiti potete andare su facebook su facebook se volete potete mandarci un messaggio e vi possiamo mandare a titolo gratuito i brani di un piccolo demo che abbiamo fatto qualche anno fa quindi poi mandate un messaggio e vi potete scaricare questi bravo